ed eccoci qua a risolvere addirittura un esame di ingegneria del marketing esatto anche lì ci hanno java poverini dirai tu ma no che fortunati in verità perché vedranno questo bellissimo linguaggio di programmazione vediamo cosa chiedeva l'esame c'erano tipo 4 5 esercizi che risolviamo assieme allora il primo era un esercizio di una matrice ok un array 2d un array bidimensionale tu cosa devi fare dovevi creare questo array di array e la prima riga te la doveva far fare in un certo modo che adesso andremo a vedere e poi la riga successiva perché ci ricordiamo no come sono fatti gli array 2d li puoi rappresentare come una tabella ok di righe e colonne giusto quindi la prima riga doveva essere fatta in un certo modo la seconda riga come era valorizzata ebbene i numeri che stavano sotto ok quindi i numeri che vedevamo qua sotto dovevano prendere spunto dai numeri sopra cosa significa questo metti che abbiamo 123 allora il numero sotto consiste nella somma del numero esattamente sopra del numero esattamente a sinistra e del numero esattamente a destra rispetto all'array che sta sopra ok quindi se io faccio 123 cosa ci starà qui ci sarà il 3 perché è 1 più a sinistra non c'è niente 0 più 2 che sta a destra va bene quindi qua ci sarà il 3 e dovevi continuare a creare l'array in questo modo ti metto il testo anche sopra in pressione ma comunque andiamo a leggere assieme vediamo io ce l'ho qua nell'altro schermo quindi creare un programma che inizializzi un array x con n numeri casuali interi tra 0 e 9 dove n è una costante inizializzata con un valore a piacere quindi creo la mia n intanto la mia costante valorizzata a piacere che uguale a 4 e adesso devo riuscirmi a creare un array di numeri casuali tra 0 e 9 come posso fare tu conoscerai magari già il metodo random con next int e cerchi di farti generare randomicamente questi numeri ma secondo me c'è una maniera più figa di farlo ok random punto ins o scrivimi nei commenti se conoscevi questo metodo perché secondo me è veramente raro vederlo random punto ins mi permette di generare il mio array di valori di numeri tra 0 e 10 e me ne piccherà 4 ok non figata sto metodo invece di mettermi a fare random punto next int ciclare eccetera eccetera secondo me è bullata e poi gli dico tu array perché giustamente voglio farlo diventare un array questo ins mi ritornerebbe un in stream contro il q su int e dj che è intelligente e infatti ci dice in stream perfetto abbiamo creato il nostro array di valori interi fam tre righe ora lui cosa ci dice creare quindi una matrice m sempre comunque bellissimi vero gli esercizi universitari no che ti danno sempre questi nomi per aiutarti n m u k w f creare una matrice m cioè un array di dimensionale n per n quindi la matrice si chiama m n per n di grandezza n per n di dimensioni n per n ok con le seguenti proprietà la prima riga è identica all'array x quindi noi creiamo un array di dimensionale la cui prima riga è uguale all'array x quello che abbiamo appena creato values ok lui sarà il nostro array x quindi noi andiamo a creare la nostra nuova matrice matrix giusto new int default array length default array length perché deve avere quelle grandezze no quelle dimensioni e poi come facciamo a far sì che questa nostra nuova matrix questa nuova array bidimensionale abbia la prima riga identica all'array che abbiamo appena creato lo faremo in questo modo system punto array copy ok e noi diciamo semplicemente guarda invece di mettermi a fare questo ciclo for ok per riuscire a creare far sì che la prima riga sia uguale a quella appena creata non usiamo questo ciclo for non ci serve possiamo ancora farlo in una riga sistemare i copi bellius gli dico ok array copy mi dice cosa dammi questi l'array da cui vuoi partire giusto tu vuoi copiare un certo array dammelo così io so quale array vuoi copiare bene ecco che gli do bellius il mio array di partenza dice da che posizione vuoi cominciare a copiare dalla posizione zero a sì e dove vuoi andare a copiare beh nella matrice zeroesima giusto perché vogliamo la prima riga e allora dice ok ma nella matrice zeroesima da dove vuoi cominciare a copiare beh dalla posizione zeroesima ok ho capito quasi tutto mi manca solo una cosa quanti ne devo copiare beh la default array length giusto ed ecco che con system array copy ci siamo evitati di scrivere un ciclo for e gli abbiamo semplicemente dato in pasto quello che lui voleva e bam prima riga matrice uguale al vettore altri nomi universitari poi cosa ci dice le righe successive come devono come devono essere fatte allora ti leggo proprio testualmente ogni elemento è il risultato della somma tra i tre seguenti elementi ok l'elemento che sta nella stessa colonna riga precedente l'elemento che sta sulla riga precedente colonna precedente l'elemento che sta sulla riga precedente colonna successiva è quello un po che ti stavo spiegando prima non so quello esattamente che sta sopra quello che sta a sinistra quello che sta a destra quindi andiamolo a fare allora calcolo i valori per le righe successive no qua per evitare di scrivere tanta logica interna né stata eccetera eccetera abbiamo utilizzato altri metodini che andremo a richiamare e che faranno ciò di cui abbiamo bisogno noi intanto qui ci stiamo ciclando va bene sull'array più esterno e poi entro nell'array più interno e gli dico fill matrix questo è il metodo che conterrà la logica vera e propria ovvero io adesso devo valorizzare le righe successive giusto per ora abbiamo un array 2d che ha la prima riga uguale a quella che ci siamo creati all'inizio ma mancano ancora le altre due che devono essere inizializzate a qualcosa no hanno bisogno dei valori fill matrix ha bisogno di matrix giustamente la matrice deve andare a filare l'indice quello esterno 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 e l'indice del ciclo interno che corrisponderà a tutti i numeretti va bene in questo caso sono 4 no perché default array length ci siamo detti che è 4 quindi andiamo a vedere cosa fa fill matrix fill matrix funziona in questo modo e qua ti ho messo anche un'altra alternativa fwe fwe che magari se vuoi possiamo rinominare in cane visto che cane è immancabile nei tutorial di cold brothers fill matrix cosa fa beh si prende la nostra array bidimensionale i e j e allora io qua ti ho utilizzato un po' di nomi per farti capire esattamente cosa sta succedendo ci ho messo dei nomi parlanti ricordiamoci che java è un linguaggio parlante è un linguaggio tanto verboso quindi non è che abbiamo bisogno di fare magari come in altri linguaggi utilizzare nomi piccoli stretti a b k wf e epsilon cioè possiamo quasi un po' sbizzarrirci basta che aiutiamo lo sviluppatore a capire cosa sta succedendo perché quando tu ti trovi in azienda che non hai mai visto sta cosa e ti trovi film matrix qua già capisci che non è che devi riempire il film di matrix ma devi fillare riempire una certa un certo array no una certa matrice meglio e poi qua entri cosa vedi row above current above to current array bound vedi già dei nomi parlanti che ti fanno capire il contesto subito senza che ti metti a pensare cosa fa sta logica cosa fa questo aiut e scleri quindi abituiamoci anche a questo e soprattutto a mettere il final che io purtroppo non sto sviluppando in java da mesi e mi sto quasi dimenticando ma ogni volta che non mettiamo il final un gattino muore ricordiamoci sempre di fare fare queste cose il final è fondamentale tratto da posto di scrivere come un matto tutti i final adesso potevamo premere su interdij che è intelligente alt shift e guarda la magia bambam 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 e quindi shortcut usiamole perché ci fanno risparmiare una valanga di tempo ma ora cosa significa row above current beh è la riga sopra la riga corrente row above current e cos'è matrix i meno uno perché i è proprio l'indice no da cui siamo partiti e tra l'altro se hai notato l'indice era uno perché noi saltiamo la prima riga perché la prima riga è già quella che abbiamo copiato precedentemente noi vogliamo fillare quelle dopo no quindi matrix i meno uno è la riga sopra quella in cui ci troviamo adesso above to current è esattamente il numero sopra il numero in cui mi trovo sempre visualizzandoci questa questa tabella no come quando qui avevamo uno due tre io adesso mi trovo qua above to current esattamente quello sopra ok above to current array bound perché hai presente index out of bounds exception ecco qua ho dato un altro nome parlante array bound ovvero dove non posso più andare oltre ok il limite quindi array bound matrix punto length meno uno perché ci ricordiamo che gli array partono da zero a contare tutta quella storia là siamo a un esame universitario queste cose spero che non servono a ripeterle no quindi left to current comincio a calcolare lui e dico ma j è maggiore di zero ovvero sono da qualche parte oltre il primo numero quindi questo è zero sono almeno qui 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 o non alla fine perché gli dice j dopo minore di array bound ok a me non mi sembrava comunque j è maggiore di zero se sì allora row above current altrimenti zero poi right to current ovvero quello a destra j è in minore di array bound quindi sono arrivato prima dell'ultimo numero ok ed ecco che se sì row above current j più uno perché mi vado a prendere quello di destra altrimenti andrei fuori no sarebbe un out of bounds exception altrimenti zero e alla fine ecco che li sommo tutti e tre come mi ha chiesto il testo per valorizzare il numero sotto ora perché ti ho dato l'altra soluzione cane perché quando noi utilizziamo in java un ternario e l'altra opzione è inutile non utilizziamo capisci che stiamo un po quasi citando cioè stiamo utilizzando gli strumenti di java i ternari un po perché ci c'è utile in quel caso no in verità questo zero non ci serve proprio a una mazza cioè zero non mica ti serve sommare zero e quindi ecco qua cane che è immancabile e quindi facciamo praticamente la stessa identica cosa è un po più difficile da leggere ma sarebbe anche la cosa un po più corretta se volessimo perché ti dico sempre row above to current qua inizializzo un int new value zero e quali dico guarda ti do semplicemente tutte le cose possibili che puoi fare ovvero sinistra i numeri in mezzo e destra come indice mi vedo se stai andando out of bounds ok quindi se l'indice è minore zero o l'indice è maggiore o uguale a matrix.length e comincio poi a calcolarmi i valori ok e poi li riassegno quindi sto facendo la stessa identica cosa ma scritta in un modo in un modo diverso tra l'altro non l'ho testato perché l'ho scritto giusto per ma boolean is out of bounds se non è out of bounds e quindi ora dovrebbe funzionare magari lo andiamo anche a testare con sostituiamolo a dov'è che veniva utilizzato a qui cane e andiamo adesso a far partire la nostra applicazione bene cosa stiamo scoprendo che inizialmente avevamo 4916 si avevo fatto un typo giusto quella cosa del punto esclamativo che mancava 13 perché 13 perché sto cercando di sommare quello che c'è a sinistra con quello sopra e quello di destra a sinistra non niente 9 più 4 cane funziona 14 perché perché 9 più 1 più 4 bam funziona cosa sto 16 9 più 1 più 6 funziona insomma direi che la nostra applicazione sta funzionando vediamolo anche con il metodo originale film matrix che era quello proprio fondatore da 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 886 36 22 16 9 è giusto certo che è giusto perché vediamo subito che 8 8 16 22 886 giusto quindi questa è la soluzione per questo esercizio di esame tra l'altro piccola chicca ci ricordiamo di sta cosa quando faccio ripartire sono riuscito a formattare in modo figo ok pro per fare bella figura anche all'esame i numeri che voglio stampare della mia matrice l'avevo già mostrato in una lezione quella di allenamento sui p2 operators in questo modo io sto dicendo che ogni numerello che stampo voglio che occupi quattro punti va bene quindi ecco che mi spunta tutto questo bellissimo quadrato indentato in modo carino e coccoloso o se ti stanno piacendo questo tutorial se stai imparando qualcosa e ci vuoi aiutare almeno un like un'iscrizione un commento una qualunque cosa magari anche dirlo agli amici ci farebbe tantissimo piacere almeno ci fai capire che il lavoro che stiamo portando sul canale è utile insomma e piace vediamo l'altro esercizio l'altro esercizio era una media average ok quindi noi dobbiamo semplicemente fare una media tu ci scrivi dei caratteri ma vediamo proprio il testo dell'esercizio crea un programma che lega una serie di valori numerici da tastiera non necessariamente interi l'inserimento termina quando viene inserito il valore zero il programma dovrà calcolare stampare la media dei quadrati di tutti i numeri inseriti ok quindi noi stiamo inserendo dei numeri e ci deve calcolare la media di tutti i numeri inseriti come fa beh allora questo non penso che serve a spiegarlo abbiamo lo scanner il nostro amico sempre scanner che prende degli input ok while qua gli sto dicendo finché il valore che tu inserisci è diverso da zero allora continuo a farlo cioè finché è diverso da zero allora puoi continuare no è la condizione che ci ha proprio detto lui sum math.pow value to ok qua stiamo utilizzando quindi il metodo pow della classe math per fare l'elevazione a potenza e poi perché divider perché ogni volta che io entro qua dentro voglio tenermi conto di quanto diventa grande il divisore di quante volte ho aggiunto dei numeri di quante cose insomma per quante cose dovrò dividere la somma finale no e quindi divider più ed ecco qua che la media dei valori è sum slash divider ma voglio anche farti vedere una cosa ancora più figa math.pow tu dici ma non basta fare value per value ok sì ma solo in questo caso e sai perché solo in questo caso questa è una cosa che ti permetterà di fare l'extra pro quando qualcuno te la chiederà e magari tu hai scritto value per value e lui ti dirà ma perché non utilizzi math.pow ok che è più una cosa di java più una classe eccetera eccetera e tu gli dirai beh ora te lo faccio vedere io quando guardavo il video di code brothers lui ha cominciato a entrare dentro il metodo pow e poi non si è fermato qui ha voluto entrare dentro strict math.pow e poi non si è fermato lì ha voluto entrare dentro fdlib.pow.compute ma poi non si è fermato lì è voluto andare ad analizzare anche le linee di codice fino a vedere y uguale uguale 2 cosa vuol dire y uguale uguale 2 te lo risparmio ma lo puoi già vedere qua quando noi vogliamo elevare al quadrato addirittura il codice di quelli che hanno fatto java è x per x value per value ok quindi noi stiamo veramente perché ce lo sta dicendo proprio mister fdlib.java.pow.compute ce lo sta dicendo proprio lui che stiamo facendo la cosa giusta perché è stato addirittura scritto così tempo quindi la prossima persona che ti dice di utilizzare math.pow per le cose che sono all'elevazione al quadrato tu gli dici no baby va benissimo video per video anzi ti ho risparmiato un bel po di cose e niente andiamo a far vedere se funziona e inserisce una serie di valori dai lo facciamo 1 2.2 3 0 queste sono le belle cose della diretta evidentemente scanner.nextable ha avuto qualche problema ma andiamo a debaccarlo che ridere intanto vediamo ah ok così così va è il 3.3 che non gli è piaciuto andiamo a vedere cosa succede 1 2,2 forse voleva ma mi sembra strano ah era solo la virgola ok avevo messo il punto e era solo la virgola va bene a posto alla fine funziona mi faceva un po' strano no? andiamo a vedere un altro esercizio questo aveva a che fare con la ricorsione ma ce la ricordiamo ancora avevo fatto quel video addirittura da 40 minuti l'esercizio diceva definisci un metodo ricorsivo che prende in input un vettore di numeri interi e restituisce true se sono tutti uguali false in caso contrario è bello andiamo a farlo allora questo non serve perché stiamo solo caricando un array dai non serve guardare questa parte se vuoi stop il video e te la vedi ma non penso ci sia nulla di pazzesco no? se siamo arrivati a vedere la correzione di un esame diversitario non ci guardiamo come caricare un array da uno scanner appena visto andiamo a vedere il metodo ricorsivo che è la cosa più utile are all elements equal lui vuole un array in input e un indice io qua cosa sto dicendo? me li guardo tutti non trovo nessun false sono arrivato alla fine quindi e allora non sarà che true cosa vuol dire? io ho un array e mi prendo il primo numerello e quello dopo come nella lezione cina della puntata sulla ricorsione che eravamo tutti in fila e uno chiedeva avanti qual era il suo numero qua uguale io sto dicendo tu primo numero sei diverso da quello dopo di te? allora se sei diverso ritorna false e continua ad andare avanti quindi lui ogni volta sta controllando se quello di fronte a sé è diverso tu numeretto primo diverso array index più uno ovvero il numeretto dopo nell'array tu sei diverso da me? io sto dicendo quello davanti a me ciao sei un mio clone? quindi se non entro qua dentro vuol dire che è un mio clone no perché non è andata questa condizione ok? questo non era mai vero non sono mai entrato nell'if quindi sto continuando a chiedere a due a due perché vedi che qua poi mi passo index più uno non mi sto più passando l'indice iniziale mi sto passando l'index ogni volta più uno e sto richiamando me stesso ok? sto mettendo tanti stack frames uno sopra l'altro ce lo ricordiamo? nel mio stack sì quindi ogni volta passo un indice successivo e quando arrivo alla fine index uguale array length meno uno l'abbiamo visto anche prima questo è l'upper bound no? del mio array quindi quando arriva alla fine beh se sono arrivato alla fine non può che essere true ho chiesto a tutti dentro l'array se erano dei miei cloni se erano dei miei sosia non sarà che true bene quindi ecco che è risolto questo esercizio della ricorsione qua infatti ho il mio main lo faccio partire inserisce il valore per la posizione 1 1, 2, 3, 4, 5 i valori non sono tutti uguali lo faccio ripartire 1, 1, 1, 1, 1 i valori sono tutti uguali quindi ancora una volta ti chiedo se ti stanno piacendo questo tipo di esercizi almeno un'iscrizione che a te non costa niente forse una caloria cliccare in basso iscriviti o un like a noi invece farebbe un sacco di differenza perché dobbiamo anche combattere contro l'algoritmo di youtube per insomma esistere proprio dato che ci piace fare questa cosa vorremmo almeno esistere e poterla fare vediamo anche un altro esercizio gestore smartphone cos'è la gestore smartphone? definire opportunamente in Java la seguente situazione uno smartphone è caratterizzato da un identificativo del modello un prezzo una marca che può assumere esclusivamente i valori ok? Apple, Samsung, GoPro, Huawei ora, se sono esclusivi questa è una parola chiave che ci sta aiutando nel nostro esame il prof ci sta dicendo uè devi utilizzare un enumeratore ok? abbiamo visto la puntata sugli enumeratori quindi creiamone uno per questi modelli tutte le proprietà sono necessarie per descrivere uno smartphone e immutabili pure quindi un bel final non ce lo toglie nessuno no? e poi queste c'è più che final questo è un enumeratore no? perché sono immutabili no? e tra l'altro anzi forse era anche final scusami perché tutte le proprietà ah ok tutte le proprietà sono final no? perché quando tu metti il tuo field final dopo non hai più il set giusto? quindi è immutabile no? nel senso se tu metti adesso andiamo a vedere il tuo smartphone che la marca il prezzo è final non avrai il getter giusto? non lo puoi generare perché final no? eeeh basta scrivere il codice di una classe gestora smartphone che espone un metodo che prende in input un vettore di smartphone e stampa a video il numero di smartphone per ogni marca questa è la parte un po' più interessante ok? noi dobbiamo riuscire a stampare quindi quanti di quei modelli abbiamo e dall'altra parte quanti sono ok? che tipo di modello e quanti sono tipo numero quindi andiamo a farlo mmmm questo era un commento che avevo scritto perché lo stavo correggendo assieme un carissimo studente che saluto Lorenzo spero che l'esame ti sia andato benone e vediamo qua come fare collections.ncopies va bene? quindi invece di andarmi a creare una lista in altri modi con il foro eccetera eccetera ho voluto creare una collection quindi una lista di elementi tutti uguali in questo modo ho creato 5 smartphone di questa marca Huawei vediamo qua che abbiamo l'enumeratore direi niente di strano vediamo poi il nostro smartphone che avrà che avrà i suoi bellissimi field final e infatti se io ci faccio alt ins vedi che mi dice solo getter non ho i setter quindi non posso mai più cambiarli giusto? quindi ho solo modello price marca va bene? e poi qua ho il mio metodino print smartphones va bene? che mi stamperà quindi tutti i miei smartphones magari questo la pb oh no nooo volevo solo mettere una p piccola ok e poi qua print smartphones cosa desidera? desidera un array di smartphone e quindi glielo ho dato in pasto in questo modo ho preso la lista precedente ho detto tu array tu array vediamo che vuole un t array e quindi glielo ho sparato dentro ora qua come abbiamo fatto? se ti ricordi magari una delle puntate che ho fatto quelle in blu per l'assunzione in qualche azienda ti ricorderai questa cosa perché l'abbiamo vista e quindi l'ho ripresa quindi come facciamo a creare una mappa che associ a ogni modello di smartphone quanti ce ne sono senza usare gli streams come avevo fatto anche in quell'altra puntata in questo modo gli dico guarda intanto mi serve uno zero dove partire e adesso vi faccio vedere perché mi creo una smartphones and quantity map va bene? una mappa che associa quindi smartphones and quantity la quantità ricordiamoci sempre di mettere l'interfaccia ricordiamoci sempre di mettere il final altrimenti un gattino muore ora per ogni smartphone all'interno della mia lista di smartphones va bene? del mio array io gli dico guarda tu me lo pigli e mi fai get or default di questa mia mappa dandoti questo smartphone su cui sto ciclando perché get or default? perché returns the value to which the specified key is mapped or default value if the mismap contains no mapping for the key quindi tradotto in parole umane mi ritorna il valore al quale questa key è associata ma al momento la mappa è vuota no? quindi intanto non mi ritorna niente ovvero meglio mi ritorna il default value che sta scritto lì or default value if this map contains no mapping for the key default value è il mio zero mi è piaciuto mettere il maiuscolo perché secondo me in questo caso ci stava mettere il maiuscolo solitamente dei variabili non sono il maiuscolo in java ma in alcuni casi secondo me si può fare smartphones and quantity put ora che mi hai fatto mi hai dato questo valore io posso ficcare dentro la mia mappa lo smartphone su cui sto ciclando e contarlo inizialmente è zero e quindi ci faccio count più uno ogni volta mi passo count perché mi passo count? perché al secondo ciclo io voglio sapere quanti ce ne sono quindi get or default stavolta col cavolo che mi dà default mi dà get quindi get mi darà uno ciclo sul secondo e faccio count più uno bam arrivo al terzo ciclo sul terzo mi dà che due bam count più uno quindi faccio partire adesso e vedi alla fine solo che mi faccio dare l'entry set e per ogni entry set lo stampo questa è una method reference se non te le ricordi dato che non le abbiamo ancora trattate sul canale è come se io pretessi ogni entry e mi stampassi con le lambda ok? ogni entry è la stessa scrittura però Intel DJ stesso poi mi dice ma basta dai non farà la lambda falla con una method reference e dico va bene e quindi faccio partire 4 ok? bb smartphone modello tapper uguale 5 quindi effettivamente lui ci ha associato ogni smartphone a quanti numeri di quello smartphone stavano in quella mappa altro esercizio risolto ne manca ancora uno se non sbaglio ovvero lo vado a leggere qua ah no li abbiamo fatti tutti e quattro ok abbiamo finito tutti e quattro gli esercizi del compito inaspettatamente ce n'era un ultimo se non sbaglio ma che non era niente di che ovvero c'era una classe studente tu dovevi solo stampare lo studente Giacomo deve sostenere tre esami tu praticamente mettevi creavi un esame avevi i suoi feed da esame questa è una cosa in più che comunque ti mostra tanto per ma non sarebbe nello scope della lezione show student details è solo un metodo che mi mostra come stampare i dati dello studente qua ho lasciato come vedi tante cose un po strane in questa lezione perché era fatta a metà con l'altro studente Lorenzo con cui mi sentivo che saluta e quindi l'ho lasciata in parte così però questa penso è la parte più difficile magari se ti serve il codice di questo particolare esercizio esame te lo lascio in description o magari me lo chiedi o magari entri nel gruppo discord e te lo passo là quindi as usual questo è quanto ci abbiamo messo un po' a far uscire anche quest'altra lezione ma è perché mi sto concentrando un sacco su angular così diventeremo anche degli sviluppatori angolari in un futuro molto prossimo se hai qualche domanda me la scrivi qua sotto se hai qualche testo di esame che vorresti correggere ne possiamo parlare e mi contatti in privato o ti unisci al gruppo discord e mi contatti in privato lì e come sempre io e il mio altro codebrother fondatore che come sempre è qui invisibile ma è sempre presente dietro le quinte ti auguriamo il meglio nella vita e soprattutto nel coding perché il coding è la vita alla prossima puntata ciao